Ehi, ehi, ehi! Non riesci a fare la cacca? Tranquillo, guarda, ci siamo qui per te. Ce la farai. Inizia a bere questo bicchiere d'acqua. I liquidi sono molto importanti. Ora alzati, vieni con noi. Facciamo un movimento per 20 minuti. Stimola il tuo intestino. Aiutati anche con un massaggio addominale. Su, sinistra, giù. Fai pressione lentamente. Su, sinistra, giù. Per almeno 5 minuti. Tieni, questo è lo migliore per provarci. I pasti stimolano un riflesso di svuotamento. Sei pronto? Ora siediti. Ti regaliamo questo sgabellino da mettere sotto i piedi. Ti metterà nella posizione giusta. Fai un bel respiro e...